Lei cosa consiglia ad un giovane che vuole investire in questo settore? Di andare ad adocchiare un terreno in un posto un po' vocato, incolto, di individuare il prodotto che si riferisca a quella zona, quel terroir, deve individuare il prodotto giusto, di coltivarlo in grande pulizia, quindi senza concimi chimici, senza riservanti, perché il futuro è nella naturalezza, di individuare un bel packaging di questa roba, trasformarlo bene, e poi di andare nel mondo a vendere, la filiera completa, partire dalla terra e arrivare al cliente. E se dovesse scegliere di fare un investimento in Sicilia, da quale città partirebbe? Nella zona dell'Etna, è una zona che mi fa impazzire.